Ciao a tutti, nel video di oggi Leo si trova in vacanza con mamma Chiara, in cui partecipano al compleanno di un amico. Qui Leo assaggia per la prima volta le caldarroste, rimanendone soddisfatto. Vi lascio al video, buona visione. Andiamo a divertirci? Sì. Sei contento? Sì. Sei contento? Le prime caldarroste di Leo, vieni amore. Mangi? Mangià. Buone? Signorino, di chi è questa borsa? Di Leo. No, è di mamma. È di mamma. È di mamma questa borsetta. C'è anche l'occhio della mamma sopra. È di mamma. È di mamma. È brutto. Grazie. E tu guardi e in base alla faccia mi dici. Io capisco. Non è uscita niente. Sei una mamma. Sei una mamma doppia. Sei una doppia mamma. E tu guardi e la mamma. Grazie a tutti.